E ciao ragazzi bentornati qui sul canale del coach, per te che vai di fretta per questa serie oggi ho messo insieme una sequenza di tre esercizi per andare a fare un pumping proprio sul tricipite sono tre esercizi non facilissimi, medio ed alta intensità però questo ti consentirà veramente di andare a colpire in maniera forte il tricipite è una sequenza di 12-12-12 dai un'occhiata a questi esercizi, se hai qualche domanda mi iscrivi sotto se il coach ti è piaciuto lascia un mi piace o al massimo ti iscrivi al canale noi ci vediamo alla prossima e allenati bene, ciao! 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 Ciao!